Parlando per la messa a gara del trasporto pubblico di Roma, alla consultazione ha partecipato solo il 16,3% dei romani radicali annunciano però ricorso al TAR. Virginia Lozito. L'affluenza per il referendum consultivo sulla liberalizzazione del trasporto pubblico a Roma supera di poco il 16%, lontana dal quorum di un terzo degli elettori necessario per il Campidoglio in base alle vecchie regole, ma contestato dai radicali e dal comitato promotore, pronti a ricorrere al TAR per chiedere l'applicazione del nuovo statuto che non prevede il quorum e modificato, sottolineano, lo stesso giorno in cui è stato indetto il referendum. Tra i quasi 400.000 cittadini romani che hanno votato, i sì superano il 70% per entrambi i quesiti, uno sulla liberalizzazione tramite gara pubblica del servizio di trasporto locale, oggi affidato in quasi monopolio alla municipalizzata Atac, e l'altro sulla creazione di nuove forme di trasporto pubblico collettivo. De radicali Maggi polemizza con i 5 Stelle, la scarsa partecipazione è una sconfitta per l'amministrazione della democrazia diretta, dice, e via Facebook denuncia casi di seggi chiusi e di cittadini a cui è stato impedito di votare perché senza tessera elettorale, nonostante il comune avesse detto che non serviva. Si è trattato di un caso isolato risolto tempestivamente, ribatte il Campidoglio, quanto è seggi chiusi o spostati, i cittadini erano stati informati in tempo. I romani vogliono che l'Atac resti pubblica, commenta via Twitter la sindaca Raggi, ora l'impegno per rilanciarla.